Questi che vedete sono airbag appena esplosi e adesso capiamo cosa è successo. Siamo in autodemolizione Pollini e si tratta della fase di neutralizzazione dell'airbag. Da normativa è uno dei passaggi obbligatori del processo di bonifica di un veicolo da rotamare. A seconda del previsionale, quando un veicolo entra in azienda, viene deciso se l'airbag deve essere o smontato o neutralizzato. In questo secondo caso l'operatore sfrutta una centralina dedicata che si collega alla centralina degli airbag e tramite questa riesce ad azionare tutti gli airbag dell'automobile grazie a degli impulsi elettrici. Naturalmente l'intero apparato è connesso al terminale dell'operatore in modo che questo possa trovarsi a debita distanza dalla vettura. Anzi il sistema non si avvia finché l'operatore non è uscito dalla zona pericolosa e si utilizzano le dovute precauzioni per il rumore. Dopotutto anche questa ingegneria.